Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla Maullocraft, signori, episodio numero 9. Allora, cosa facciamo in questo video? In questo video, intanto, prima di partire col video, dobbiamo... informazioni molto importanti. Informazione numero 1, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e ai canali, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola, e poi date un'occhiata ai link in descrizione sotto ogni video per rimanere sempre collegati con il canale. Detto di sì, signori, non perdiamo tempo e adesso possiamo partire con il video. Allora, signori, il video è molto semplice oggi, oggi non ci perdiamo in chiacchie se io riesco a prendere quello che devo prendere. Prendiamo il piccone di diamante, signori miei, e andiamo giù in miniera, e ci andiamo a recuperare l'ossidiana che ci serve, signori, per creare il portale del nether. Ebbene sì, signori, è giunto il momento. Creiamo il nostro bellissimo portale che non attraverseremo oggi, ovviamente non l'attraverseremo oggi perché siamo dei pazzi a pensare di attraversarlo oggi, e una cosa alla volta, una cosa alla volta. Oggi creiamo il nostro bellissimo portale e il prossimo video, se il tizio qui decide di correre, forse se salte la faccio ancora più veloce, ah, vedi, però poi sbatto la testa e mi faccio malissimo, devi correre però, zio, corri, corri, ok. E nel prossimo video, guardate quanto bellissimo stitiana che abbiamo qui, iniziamo a recuperarla come se non ci fosse un domani, boh, iniziamo a prendere questa, questa, questa qua mi sta simpatica, iniziamo da un punto in cui non dovrebbe esserci lava sotto, signori, e poi nel prossimo video, ovviamente, attraverseremo il portale, ecco, appunto, che avevo detto io, cosa avevo appena finito di dire, praticamente, ok, abbiamo messo l'acqua, ora, i prossimi blocchi non dovremmo perderli, in teoria, in teoria, secondo un'antica leggenda, ma ci proviamo. Allora, noi come al solito prendiamo i nostri bellissimi dieci blocchi, che dovrebbero bastare per fare il portale, dopodiché, perfetto, ne dobbiamo prendere qualche altro per fare il tavolo degli incantesimi, che anche quello dobbiamo farlo, e poi stoppiti. Altra cosa, signori, come ricordo a tutti, che la serie è basata sul fatto di fare cose molto veloci, molto brutte, brutte le facciamo in tutte le serie, non ci sono possibilità che ne facciamo cose belle in qualche serie, ogni serie che ho portato di Minecraft abbiamo sempre fatto cose brutte, quindi in questa sarà ancora peggio, perché deve essere una serie, voglio una serie veloce, snella e rapida. Infatti non mi perdo a collezionare animali, mi bastano le mucche, mi bastano le mucche per avere le pelli, per avere le carni e per avere il latte, eventualmente per i pillager, se un domani mai dovessimo incontrarli. Allora, piano piano recuperiamo l'ossidiana, e che stava addio? Ah sì, che prenderemo anche l'ossidiana per fare il tavolo degli incantesimi, perché comunque abbiamo già 22 livelli, signori, che non sono male 22 livelli, 22 livellozzi non sono male, ne mancano 8 per raggiungere i 30 e poter iniziare ad avere degli incantesimi interessanti. Ora però calma, perché se noi continuiamo ad andare là, l'acqua non ci arriva più. Quindi cerchiamo di recuperare questo senza fare troppi danni, così l'acqua ce la teniamo tutta qua, bella, pulita, pulita. Questo video non vende di fare tagli, grossi tagli, signori, tanto così stiamo più a chiacchiera. Aspetta, riesce a metterti qui? No, non ci vuole andare lì, la corrente è troppo forte, signori, la corrente è troppo forte. Comunque, basta che me lo rompi, poi puoi fare quello che vuoi, basta che mi rompi sto blocco, poi puoi fare quello che vuoi. Dai, dai, dai che ce l'hai quasi fatta, dai che ce l'hai quasi fatta, dai che ce l'hai quasi fatta. Quanto ci sta a rompere se sto blocco? Che è infinito, signori, mi è capitato il blocco infinito. Oh, forse dovevamo rimanere fermi. Dai. Se sta blocco, si sta rompendo secondo voi? Il blocco è infinito, due ore dopo. Ma che problemi ha sto blocco? Mamma mia, che blocco antipatico, lascialo stare lì. ti rompo, sappi che ti rompo, non ti lascerò lì bello tranquillo, sappi che sarai mio, signori. Sarà mio. In qualche maniera, ok, questo l'abbiamo ottenuto, ora di qua siamo buoni, siamo messi bene, recuperiamo il decimo, e poi per il tavolo di incantesimo, quanti me ne servono? Ora controlliamo. Non ricordo se ne servono due, due o qualcuno in più, non mi ricordo. Dai, è così che ci portiamo a casa pure questo blocco, così, visto? la vendetta è un piatto che va a servito freddo, signori, la vendetta è un piatto che va a servito freddo, lui voleva resistere, e invece l'abbiamo ucciso. Per fare il tavolo degli incantesimi, da qua non riesco a farlo, non riesco a vedere la ricetta, perché mi serve una crafting table. Va bene, allora, aspettate un attimo, riesce a rompere questo, perfetto, entra qua dentro, ok, recuperiamo in una botta, tanto che non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo nessun tipo di problemi, il piccone ce l'abbiamo bello carico carico, quindi, facciamo così, nel recupero altri, siamo a 12, facciamo 15, va, nel recupero 15, e 16, dai 16 perché mi piace il numero disparo, i numeri pari, e ci vediamo poi quando torno in superficie, signori. Ok, signori, siamo tornati qui, ho preso i miei bellissimi 16 blocchi, e il portale, signori, lo faremo in questa zona di qua, lo faremo su questa lingua di sabbia, che esce da questa parte, sperando che nessuna tartaruga, abbia la folla idea di attraversarlo, come lo faremo, signori? Sarà molto semplice, brutto e pratico, voglio farlo, visto che, per niente, noi siamo accampati, sono a spese di capanna, la nostra barca è distrutta là sotto, e siamo dei naufri, praticamente, voglio fare il portale, come se fosse in questa zona qua, abbandonato, signori, abbandonato, quindi come lo facciamo? Faremo, lo faremo intanto un blocco sotto, sotto, sotto il livello della sabbia, quindi, da questa parte è sicuro, così, in modo tale che, come se fosse stato coperto, diciamo, dalla, come se uscisse, tipo, dall'acqua, però, col tempo, al passare del tempo, fosse stato, appunto, coperto dalla sabbia, che è arrivata negli anni, quindi, direi di mettere, e, tre blocchi, tre blocchi qui, sì, aspettate, devo prendere un attimo, se faccio tre blocchi, poi l'altro, devo metterli sopra, ci sta, sì, perché se no, dovrei fare due, e allargare, allarghiamo un attimo, la lingua di sabbia, allarghiamo un attimo, la lingua di sabbia, lo facciamo di due, il portale, scusatemi, da quando il portale, deve essere, di tre di base, però di tre, mi garantiscono entrare, sì, va bene, ok, forse dovrò andare a prendere, altri blocchi di ossidiana, non fa niente, uno, due, tre, perfetto, poi saliamo, di qua, ok, saliamo di, vediamo, uno, due, tre, vediamo come viene, vediamo come viene, perché non ho voglia di, di, di rompere altri blocchi di ossidiana, ok, potremo salire di un altro, e poi chiudere, ok, 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 calma, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, salire di un altro, ok, poi qui mi metti un blocco qualsiasi, anche un blocco di terra, non ha importanza, mettiamo un blocco di terra, perfetto, shiftiamo, ok, e andiamo a chiudere, in questa direzione di qua, ok, e qui dovremmo poter far così, ok, solo che questo non deve essere di terra, ma lo dobbiamo mettere di sabbia, che in questo momento, non mi sono dimenticato di prendere, quindi, lasciamo questa qui, scendiamo di, qui, ma si, va di diamante, va di diamante, ok, tra l'altro sta anche calando la notte, perfetto, ok, il nostro portale ce l'abbiamo signori, ora tutto attorno, andremo a mettere tutta la sabbia signori, come appunto se, fosse, fosse stato abbandonato, e, e si fosse praticamente, coperto, tutto di sabbia, come se non ci fosse un domani, intanto andiamo a dormire, intanto andiamo a dormire, intanto andiamo a dormire, che è la cosa migliore, perché qui nel deserto, sponono, i mostri come se non ci fosse un domani, recuperiamo velocemente, la sabbia, la sabbia che sta a chi, ricoveriamo questa, prendiamo un altro blocco bello, così abbondante, e torniamo al portale, che perciò, si può andare anche da qua, facciamo le cose più, più rapide, più rapide, ora, eventualmente poi, io la lingua di sabbia, la copro signori, l'allargo un poco, dobbiamo semplicemente fare così, questo portarlo tutto a paro, ok, questo così, questo così, questo così, questo così, e di qua pure, però di qua non ci arrivo più, però shiftiamo, e iniziamo a far cadere i blocchi, che devono andare a finire, un blocco leggermente sotto, perfetto, deve essere tutto così a scalino, praticamente, capito? Così, bello coperto, no, tu non ce li sta qua, tu, tu qua non ce li sta, questi invece per esempio, devono essere un gradino ancora più sotto, così, perfetto, un gradino più sotto questi, ok, questa stessa cosa, dai così, come se fosse una sorta di, 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 di montagna, ecco, di montagnola, che non è la pesca, signori, ma è una sorta di montagna piccola, questo, no, l'ho finita, ma che stai di, mi sono già sparato 40 blocchi di sabbia, porca miseria, ok, vediamo un attino come sta avvenendo, ok, di qua dobbiamo fare la stessa cosa, abbiamo fatto da quel lato, tre blocchi, no? Sì, perfetto, questo è il blocco là sopra, quindi me lo devi mettere così, ok, sdacchete, qua invece deve essere solo di due, di due, di qua, di due, adesso, due, due, uno, 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 no, non mi ero accorto che è da svinito lo spazio, questo lo recupero e questo lo prendo, ok, ora forse l'unico che mi rimane da sistemare è quello da questa parte, infatti, che se non ricordo mai l'abbiamo fatto uno più basso, quindi così, 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 ok, l'abbiamo fatto signori, il nostro muro di sabbia del portale abbandonato l'abbiamo fatto signori, dai, ci sta, il camuffaggio signori, l'abbiamo camuffato perfettamente, come se fosse appunto un portale, blocca, direi che scaccamina giusto senza far catinate, ok, dai, ci sta, ci sta, ci sta, ho sentito fru fru perché mi è vibrato il telefono, ah, devo sistemare questi blocchi da questa parte, ok, devo sistemare i blocchi da questa parte, dobbiamo recuperare un accerino perché lo dobbiamo accendere signori, non esiste che facciamo il tutto e non accendiamo, dov'è il mio accerino? ce l'avevo un accerino? mi dite che non c'è un accerino, va bene, la selce ce l'abbiamo, come si faceva l'acciarino? selce, l'ignoranza quella bella, di un gran giocatore di minecraft che non si ricorda come si fa l'acciarino, ok, col ferro, va bene, non ricordavo come si facesse l'acciarino, va bene, dettagli, dettagli, va bene signori, allora io mi finisco questa latata di qua, poi ovviamente la allargheremo, allargerò off camera tutta questa parte di qui, ok, così, due e uno, perfetto, accendiamo il portale, spedendo che parte, sì, parte signori, abbiamo il nostro portale, abbiamo il nostro portale, va bene, allora, spada in mano, belli carichi come se non ci fossero domani, signori, la copertina del video ce l'abbiamo, io per questo video mi fermo qui, abbiamo il portale signori, quindi possiamo organizzarci per andare nel nether, dettagli signori, vi ringrazio per il corso di questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale, per un prossimo contenuto, bella raga, ciao!